Sono state chiuse le indagini sullo smaltimento del materiale franoso che per dieci anni ha ostruito parzialmente la diga di Montedoglio. L'avviso di garanzia è partito per quattro società che avrebbero commesso reati che vanno dalla gestione illecita dei rifiuti speciali al falso ideologico in certificazioni. Il 29 dicembre 2010 una porzione della diga che chiude l'invaso di Montedoglio collassò determinando l'improvvisa fuoriuscita di milioni di metri cubi di acqua che si riversarono su una vasta area della Valle del Tevere con ingenti danni al patrimonio edilizio, ai beni immobili e al paesaggio. A distanza di oltre dieci anni, solo a gennaio 2020, l'ente Acque Umbre Toscane ha consegnato i lavori di rifacimento della porzione crollata della diga alla società vincitrice dell'appalto, la quale, a sua volta, chiese ed ottenne l'autorizzazione di avvalersi di altre ditte subappaltatrici per il ripristino delle strutture cementizie. Tra queste è una società di rieti che solo un mese più tardi incappò nei controlli dei carabinieri forestali. In particolare, in quel periodo, dal 20 al 26 febbraio 2020, la ditta in questione, trasferendo giornalmente centinaia di metri cubi di terre e rocce dall'area del cantiere dell'invaso verso due noti impianti della Valtiberina, attirò l'attenzione della locale stazione dei carabinieri forestali di Sansepolcro, la quale, proprio in ragione della mole delle terre movimentate, indirizzò il controllo insieme al gruppo ambiente della procura di Arezzo in corrispondenza del cantiere della diga, il quale, già nell'immediatezza, venne sottoposto a sequestro per i regati ambientali.